Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a parlare di calcolo combinatorio e in particolare cerchiamo di studiare che cosa sono le permutazioni con ripetizione. E per farlo iniziamo da questa domanda. Quanti sono gli anagrammi della parola pappagallo? Allora voglio cercare parole lunghe 10 in cui vado a utilizzare tutte e 10 le lettere della parola pappagallo. Osservate però che ci sono alcune ripetizioni. La P compare tre volte, la A compare anche tre volte, la L2. Insomma devo trovare in quanti modi posso mescolarle in maniera corretta. Allora un buon modo per farlo, per andare a contare tutto, è considerare una tabella con 10 caselle e andare a vedere in quanti modi posso effettivamente scambiare queste lettere. Allora vedete inizio a scambiare e mi rendo subito conto che nella prima casella ho 10 possibilità, 10 scelte, nella seconda 9, nella terza 8, nella quarta 7 e via così. In generale posso scambiare le lettere tra di loro in 10 fattoriale modi. Infatti faccio 10 per 9, per 8, per 7, per 6 e via così. E sto ripetendo un ragionamento analogo a quello che è che si può fare per le permutazioni semplici. Ma questo conto non è completo o comunque mi sta dando una sovrastima degli anagrammi della parola pappagallo. Perché? Consideriamo ad esempio queste due lettere A. Se io le scambio tra loro trovo esattamente la stessa parola di prima. In più consideriamo che ci sono tre lettere A e quindi posso scambiarle in tanti modi tra loro. Anche le lettere P. Posso scambiarle tutte e tre tra loro e ritrovare sempre parole uguali, anche se sono andato a scambiare le lettere. Inoltre ricordiamoci che posso scambiare anche le due lettere L. Insomma, quanti sono gli anagrammi del pappagallo? Allora, la formula finale sarà questa. Cerchiamo di capirla. Come detto, pappagallo è composto da tre lettere P, da tre lettere A, da due lettere L, poi da una G e da una U. Allora, nella formula che ho scritto e nel calcolo che ci darà effettivamente il numero di anagrammi, considero al numeratore questo 10 fattoriale che mi conta in quanti modi posso scambiare tutte le dieci lettere. E al denominatore invece vado a considerare le ripetizioni. Quindi vedete questo 3 fattoriale mi dice in quanti modi posso scambiare le tre lettere P. Questo 3 fattoriale mi dice in quanti modi invece posso scambiare le tre A. Il 2 fattoriale corrisponderà ai modi in cui scambio le due L. Infine questi due 1 fattoriali che ho scritto più che altro per completezza corrispondono ovviamente alla lettera G e alla lettera O. Quindi, in generale trovo come risultato che gli anagrammi sono 50.400 e questo ragionamento mi permette anche di generalizzare il nostro calcolo. ricordiamoci che noi stiamo contando in quanti modi si possono disporre dieci volte, perché abbiamo una parola lunga dieci, cinque oggetti, abbiamo cinque lettere che stiamo considerando, ripetuti ciascuno un certo numero di volte, in particolare 3, 3, 2, 1, 1. Vedete le tre P, le tre A, le due L e poi la G e la O. Quindi, indichiamo adesso con N il numero 10, cioè quanto è lunga la parola che vogliamo considerare. Con K il numero 5, cioè quanti oggetti, quante lettere abbiamo effettivamente a disposizione. E poi indico con P1, P2, P3, P4, P4, Pk in generale, il numero di ripetizioni che faccio di ciascun oggetto, di ciascuna lettera. Allora, vedete, questo 10 fattoriale diventerà un N fattoriale e i numeri che avevo al denominatore diventeranno rispettivamente P1 fattoriale, P2 fattoriale, P3 e P4, fino all'ultimo che sarà il Pk fattoriale, nel nostro caso era il P5. Allora, la formula che effettivamente ci permette di calcolare le permutazioni con ripetizione è questa. N fattoriale fratto P1 fattoriale moltiplicato per tutte le ripetizioni fatte in senso fattoriale, quindi P2 fattoriale fino al Pk fattoriale. Queste appunto si chiamano permutazione con ripetizione, si indicano Pn e poi sopra si ricorda di solito quali sono le ripetizioni che stiamo calcolando, quindi il P1 Pk e possiamo dire che le permutazioni con ripetizione contano in quanti modi si possono disporre N volte K oggetti ripetuti ciascuno P1 Pk volte. Una parola lunga 10 composta da 5 lettere ripetute 3 3 2 1 1 volte. Esattamente quello che abbiamo ragionato sul pappagallo. Mi raccomando che l'ordine è importante, stiamo considerando tutti i modi in cui sto riordinando questo pappagallo. Un'osservazione finale importante è che nel caso in cui andiamo a disporre N volte solo due oggetti, quindi ho soltanto due lettere a disposizione che vado a riscrivere in una parola lunga N, in cui sto prendendo K volte il primo oggetto e N meno K volte il secondo oggetto, ritroviamo esattamente il coefficiente binomiale N su K, vedete? N fattoriale fratto K fattoriale per N meno K fattoriale, cioè proprio la formula che avevamo trovato e visto per le combinazioni semplici. Questa è un'osservazione molto importante per capire cosa sta alla base dei coefficienti binomiali e quindi, se volete, del triangolo di Tartaglia, ma in generale anche alla risoluzione di problemi di calcolo delle probabilità con la tecnica dell'albero o anche delle prove ripetute di Bernoulli. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate capito abbastanza come funzionano questi anagrammi e tutti questi giochi che si possono fare con le permutazioni per ripetizione. Continuate a seguire i video di questo canale YouTube e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto.